Il fascino della latinità e della romanità sembra non declinare mai. A scadenze regolari suona l'ora dei grandi film storici, dei mastodonti della celluloide. Vecchi nomi, Quo Vadis, Cabiri e Ben-Hur, appartengono alla leggenda insostituibile dell'arte e dello spettacolo. Ecco a Cinecittà i primi giri di manovella per il nuovo Ben-Hur, un colosso del 1958 in gara con gli antichi colossi del muto. I cavalli, le quadrighe e i loro muscolosi conducenti nelle curve e nelle diritture del circo, immagini che incantano ogni generazione. Spettacoli il cui allestimento costa miliardi e forse per questo vediamo fra i presenti il ministro delle finanze Andreotti, grande parata con aura di leggenda e speriamo che anche l'arte non soggiaccia interamente allo stile e alla fastosità da circo.